Zenfone Zoom, non è uno scioglilingua ma è uno smartphone Asus presentato al CIS di Las Vegas non è ancora funzionante perché non è ancora ottimizzato l'hardware, questo è un mock-up però interessante la fotocamera, qua vedete i pulsanti per lo zoom perché è una fotocamera che avrà uno zoom ottico quindi meccanico fino a 3x con il doppio flash LED vedo anche qua una finestrella, probabilmente avrà una messa a fuoco laser sotto l'ingresso USB, qua pulsanti che non sono ancora definiti perché è un mock-up quindi non sappiamo ancora che hardware monterà ma l'intenzione è di fare un device che faccia ottime foto ma comunque rimanga abbastanza sottile e sorprendentemente leggero dovrebbe essere presentato per l'estate quindi non è un device che arriverà a breve o a brevissimo però sarà comunque un terminale sicuramente interessante